... Soldati israeliani nell'ospedale di Al-Shifa, Gaza, preoccupazione per la sorte dei pazienti nella notte l'appello di Hamas per poter evacuare almeno i neonati. Israele, tacciono le voci dissenzienti. I palestinesi temono l'arresto se accusati di parlare di guerra. Gli israeliani critici presi di mira per aver espresso pareri. A San Francisco, attesa per l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo statunitense Joe Biden al margine dell'APEC, il vertice di cooperazione Asia-Pacifico. Le forze israeliane sono entrate nella notte nell'ospedale di Al-Shifa, Gaza. L'esercito della nazione ebraica ha affermato di aver avviato un'operazione che è stata definita precisa e mirata contro i militanti di Hamas. La situazione è apparsa tuttavia immediatamente delicata dal momento che nella struttura, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute e della striscia di Gaza, sarebbero presenti non soltanto centinaia di pazienti ma anche numerosi membri del personale sanitario, nonché migliaia di sfollati. Hamas ha lanciato un appello affinché fosse stabilita una tregua al fine di poter evacuare perlomeno alcune decine di neonati prematuri le cui incubatrici non erano più funzionanti. La corrente è stata infatti interrotta e la sorte dei piccoli ha suscitato preoccupazione in tutto il mondo. Anche gli Stati Uniti, che sostengono totalmente l'operazione israeliana a Gaza, hanno chiesto che i pazienti siano protetti e hanno invitato ad evitare scontri a fuoco all'interno dell'ospedale. Testimoni hanno parlato di carri armati attorno alla struttura e di soldati presenti all'interno. Anche la situazione degli altri ospedali è disastrosa. Secondo l'ONU, 22 su 36 non sono più operativi a causa della mancanza di carburante necessario per alimentare i generatori o per via dei danni riportati a causa dei raid. In Israele, nel contesto del traumatico massacro del 7 ottobre da parte di Hamas e della successiva offensiva militare israeliana a Gaza, le voci dissenzienti tacciono. I palestinesi affermano di temere di essere arrestati, si è accusati di parlare apertamente di guerra, incluso sui social. Gli israeliani critici, compresi docenti universitari, giornalisti e politici, sono stati presi di mira per aver espresso pareri. La politica arabo-israeliana Aida Tuma Suleiman, che condanna il brutale attacco di Hamas contro gli israeliani, afferma che le è stato impedito di mostrare compassione ai palestinesi. I don't have walks with my grandchildren anymore because I don't want anybody to know that they are my grandchildren. There's a huge incitement against anyone who dares to protest against this war or to even reveal a little bit of empathy toward what is happening in Gaza. We are not allowed even to cry for a palestinian child who is killed there. Lo scorso febbraio il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Bengvir, ha istituito una task force progettata per monitorare i discorsi di odio contro lo Stato di Israele. E nelle ultime settimane il sistema giudiziario israeliano ha confermato la custodia cautelare di coloro che erano accusati di aver violato la legge. I giudici l'hanno definito un atto necessario dato che il paese è in tempo di guerra. Amir Badran e Itamar Avneri sono alleati politici palestinese ed ebreo. Non solo per i ragazzi, perché non sono niente di fare sullezze sociali, una legge che ha scritto o una piccola piccola che ha, e sono immediatamente per i terroristi o persone che sono supporti di Hamas. Un funzionario del governo israeliano ha confermato ad Euronews Israele monitora l'incitamento e indaga su ogni singolo caso. Israele forces said they had weakened 10 out of 24 Hamas battalions in the Gaza Strip, says the Institute for the Study of War. The IDF published a report explaining how it has been working to eliminate Hamas operatives and commanders in the field and senior level since the 7th of October. Now the report says Hamas is comprised of 30,000 militia fighters in the Gaza Strip, which are divided into five regional brigades and 24 battalions. Each battalion is comprised of several strongholds and military outposts. The IDF said that its ground forces are fighting in the areas of several battalions and that they had assassinated five leaders with various rules in Hamas, intelligence services, anti-armor units and special forces. La Romania addestrerà i propri militari e quelli ucraini a pilotare caccia F-16 in una nuova struttura aperta presso la base di Fetesti nel sud-est del paese. L'addestramento della durata di sei mesi dovrebbe cominciare a breve. I primi 5 dei 18 F-16 forniti all'Ucraina dai Paesi Bassi sono arrivati a Fetesti la scorsa settimana. Altri 32 dovrebbero essere consegnati dalla Norvegia nei prossimi mesi. Il nuovo centro nasce da una collaborazione tra la Romania, i Paesi Bassi e il produttore degli F-16, la società americana Lockheed Martin. Piloti ucraini si stanno già addestrando sugli F-16 in Danimarca, negli Stati Uniti e in altri paesi della Nato. Sergei Kajikurbanov, una delle cinque persone condannate nel 2014 per l'omicidio della giornalista Anna Politoskaya, è stato graziato dopo aver combattuto in Ucraina. Lo ha reso a noto il suo avvocato che ha parlato di un servizio militare di sei mesi prestato dal suo assistito. Kajikurbanov aveva ricevuto 20 anni di carcere per aver aiutato a organizzare l'omicidio della giornalista in un condominio di Mosca. Anna Politoskaya, 48 anni, lavorava per il quotidiano Novaya Gazeta. Aveva pubblicato inchieste sulla Cecenia che avevano chiamato in causa il presidente russo Vladimir Putin. Dopo sei anni il presidente cinese tocca suolo statunitense. Xi Jinping è arrivato a San Francisco in vista dell'atteso incontro vis-à-vis con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si terrà mercoledì al margine dell'APEC, il vertice dei 21 stati membri della cooperazione economica Asia-Pacifico, al suo trentesimo appuntamento. Gli esperti nutrono grandi speranze per il bilaterale, ritenendo che contribuirà a stabilizzare le relazioni tra Cina e Stati Uniti e a imprimere nuovo slancio alla ripresa economica globale. Il presidente Biden si aspetta che i colloqui siano di ampio respiro e che includano la guerra tra Israele e Hamas, Taiwan, la guerra in Ucraina e le interferenze elettorali. Allo stesso tempo spera di migliorare le relazioni tra i due paesi, deterioratesi all'inizio dell'anno. Il colloquio a porte chiuse tra i leader dei due paesi massimi dell'economia globale, insieme producono il 40% dei beni e servizi mondiali, arriva un anno dall'ultimo ed è solo il secondo incontro di persona in quasi tre anni. Il presidente francese Emmanuel Macron durante un viaggio nel Pâ de Calais ha promesso un fondo di sostegno di 50 milioni di euro alle comunità del Dipartimento, devastate da piogge e alluvioni. Un altro fondo di sostegno eccezionale per gli agricoltori, inclusi quelli della Bretagna e della Normandia, colpiti dai temporali, verrà lanciato a breve. La solidarietà, il nostro supporto, va a traduire dal settembre midi per l'oclassamento di tutte le comuni che l'hanno chiesto in catastrofe naturale. Ovviamente avrà attivato il dispositivo che abbiamo creato il tempo fa qualche mese, la Calaisità Agricole, che va a permettere di accompagnare e di compensare. Gli agricoltori francesi ritengono che la manutenzione delle infrastrutture avrebbe potuto prevenire le inondazioni. Molti di loro hanno visto i loro campi trasformarsi in vaste distese d'acqua. Gli abitanti dei villaggi, oramai estremati, tentano di salvare tutto ciò che postano dalle loro case allagate. Il governo francese lancia il bonus riparazione di scarpe e vestiti che consente di beneficiare di sconti se il lavoro viene svolto da professionisti certificati fino al 60% del prezzo di riparazione, un modo per aiutare i francesi e l'ambiente. Oggi abbiamo due obiettivi che ci sono confiati per i power pubblica. On deve già avere 35% di pièces riparate in più d'ici a 2028, 35% di vestimenti e vestimenti e vestimenti. C'è par rapporto al chiffre di 2019. Ce che ci rimonte di tempo in tempo aupre la clientele, c'è che alcune prestazioni sono troppo elevate par rapporto al prezzo della chiusura initiale. quindi questo va anche facilitarlo l'arrivamento di una nuova clientela e poter realizzare le riparazioni più facilmente. 600 i professionisti accreditati, ma si punta arrivare a 1.500. Entro 2025 il progetto è gestito dal Fondo per la riparazione che dispone di 154 milioni di euro ed è finanziato da fondi privati. La Corte Suprema Britannica si è pronunciata contro il progetto di inviare migranti in Ruanda. I richiedenti asilo non sarebbero al sicuro nel paese africano. La più alta istanza della giustizia britannica ritiene che il programma di trasferimento in Ruanda messo a punto dal governo conservatore di Sunak non posi su basi solide e si espressa sfavorevolmente all'unanimità. In base a un accordo firmato nel 2022 in Ruanda ha accettato di ospitare alcuni richiedenti asilo in attesa dell'esame delle loro pratiche ma il primo volo previsto è stato bloccato da un ricorso dell'ultimo minuto. Il governo di Sunak potrebbe ora appellarsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e se dovesse fallire il governo potrebbe subire nuove pressioni interne. L'esercito israeliano ha condotto una serie di operazioni antiterrorismo nella notte in Cisgiordania arrestando una cinquantina di persone. La tensione nell'area tra le forze di sicurezza e i coloni israeliani da un lato e i palestinesi dall'altro si è aggravata nei 40 giorni trascorsi di guerra tra Israele e Hamas a Gaza. A Tulkarem, nel nord-ovest della Cisgiordania le forze di difese israeliane note come IDF hanno condotto un raid sfociato in uno scontro fuoco in cui sono morti sette miliziani palestinesi. Per l'IDF i miliziani hanno piazzato ordigni e sparato per bloccare i militari nei combattimenti che sono seguiti l'esercito israeliano ha colpito anche dal cielo con un drone. Le vittime della notte si aggiungono alle quasi 200 inclusi otto israeliani contate dalle Nazioni Unite in Cisgiordania dal 7 ottobre, giorno degli attacchi di Hamas contro Israele. Gli arresti fino ad oggi sono oltre 1.400. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge transitoria con l'obiettivo di mantenere operativo il governo. Il provvedimento evita così lo shutdown e pone le basi per nuove trattative sul bilancio del 2024. A conferma dell'accordo tra democratici e repubblicani la legge è stata approvata con 336 voti a favore e solamente 95 contrari. Affinché il presidente Joe Biden possa promulgarla tuttavia occorrerà aspettare l'approvazione anche da parte del Senato. In caso di mancato via libera da entrambi i rami del Parlamento i fondi governativi non saranno più disponibili a partire da venerdì 17 novembre.